La partecipazione a questo nostro incontro di oggi è un segnale che deve considerarsi di estrema importanza perché dimostra come le sanzioni alla Russia stiano determinando un effetto boomerang, in particolare per l'economia veneta e non solo nei settori dell'agroalimentare che hanno tenuto banco per ovvie ragioni nella discussione di oggi, ma anche in settori tecnologici molto evoluti che sono largamente rappresentati nella nostra regione. Quindi con le iniziative che sono state indicate a cominciare dall'incontro con i parlamentari del Parlamento italiano, parlamentari veneti e Parlamento italiano e quelli dell'Europarlamento, a cominciare da quell'incontro dovremmo sviluppare tutta un'azione che porti assieme ad altri paesi, perché si stanno muovendo in queste ore anche paesi come la Germania che sono molto penalizzati da queste sanzioni, si possa conseguire anche con il loro aiuto una modificazione sostanziale degli indirizzi che l'Unione Europea ha preso senza considerare forse le conseguenze che essi avrebbero determinato per i paesi che hanno adottato queste sanzioni. L'elemento critico è il fatto che alcune produzioni venete, in particolare il legno arredo, tutto il mondo della moda, del fashion, ma anche il mondo della trasformazione dei prodotti agricoli che concerne poi il lattiero caseario, questi vivono direttamente male e con grande preoccupazione il problema dell'embargo. Ma dall'altra parte indirettamente c'è il fatto che, come è stato anche qui più volte ricordato, in economia quando qualcuno lascia un posto aperto qualcun altro lo occupa. Quindi il rischio è che nell'embargo non vi sia solo una perdita diretta e quindi una preoccupazione diretta, ma vi sia anche il ragionevole rischio che poi altri paesi possano sostituire il nostro con danni facilmente immaginabili.